Benvenuti in Lady Gossip, il tuo occhio indiscreto sul mondo delle celebrità. Oggi parliamo del talent per eccellenza che ogni anno sforna nuovi cantanti e ballerini. Mattia Zenzola è tornato a parlare della sua vittoria ad Amici 22. Era maggio quando l'allievo di ballo ha alzato l'ambita Coppa del Talent di Canale 5. Non me lo aspettavo minimamente. È stata per me una sorpresa. Ho sempre cercato di dare il meglio e per farlo ho lavorato tanto. Sono contento di essere riuscito a trasmettere qualcosa alle persone e questo lo sto scoprendo solo ora. Spero di continuare così. Fuori dal talent, per Mattia non è stato facile riabituarsi alla vita di tutti i giorni. Il ballerino ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà. Durante il primo periodo non sono stato benissimo. Ero tanto confuso e spaventato perché anche se non sembra ho tante insicurezze. Cerco di nasconderle o mi convinco di non averne ma ne ho tante come tutti del resto. Era tutto nuovo per me, lo è ancora e ora mi sto pian piano abituando. Ora però sto tornando alle mie vecchie abitudini. Ad oggi sto conoscendo tante persone che mi fanno stare bene. Il talent gli ha regalato la gioia della vittoria ma si è portato a casa anche amicizie speciali. Mi sento tanto con Wax. È stato il suo compleanno da poco e gli ho fatto gli auguri. Sono rimasto in contatto anche con Angelina, Isobel, Alessio, Samu e anche Benedetta. Ci tengo tanto alle amicizie e ai rapporti che ho creato nella scuola. Il rapporto con Benedetta Vari si è mantenuto anche una volta fuori dalla scuola. Con lei sto tanto bene. Condividiamo la stessa passione e ci troviamo bene insieme, sia nel ballo che nella vita. Ci divertiamo tanto. Non penso che ogni volta ci sia bisogno di dare spiegazioni. Il ballerino non ha escluso nemmeno una eventuale partecipazione a Ballando con le stelle. Non mi dispiacerebbe. È un ambiente familiare quello in cui c'è la danza come modalità di espressione. È un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no? Sicuramente Maria De Filippi. A detta sua, ci sarà sempre. Maria ha mille impegni e dopo amici si è dedicata anche ad altri programmi. Non abbiamo avuto tanto modo di sentirci ma sono convinto che lei c'è sempre. Tutto quello che è successo all'interno della scuola, a partire dai rapporti personali che si sono creati. È di peso da Maria. È una donna che mette tutti sullo stesso piano, che tratta tutti allo stesso modo. E questa è la cosa più bella. Grazie. Grazie.